L'idea va coltivata, ci vuole un po' di tempo anche per entrare nel tessuto connettivo della popolazione. Chiaramente per fare questo c'è bisogno non solo della pubblicità, ringrazio la tua emittente, però voglio dire c'è da fare un lavoro capillare che tenga conto di tanti aspetti. È un sistema abbastanza lungo da seguire, però siamo alla fase iniziale che consentirà poi di accedere alla fase successiva, che è quella reale, procedurale, fino ad arrivare poi, dolcissimo punto, all'elezione. Per fare una cosa del genere ci vorrà molto tempo. Già avete avuto modo di rapportarvi con la politica, con le istituzioni, con chi magari dovrebbe recepire le istanze dei cittadini o avete trovato degli ostacoli, almeno per quanto riguarda in questa fase iniziale? La fase iniziale mi ha indicato un procedimento da seguire, quello di entrare, ripeto, a contatto esclusivamente dei cittadini. La politica è stata sì coinvolta, ma è stata coinvolta in maniera molto, molto soft, insomma, uso un termine all'inglese. Però quello che a me interessa, prima di tutto ragionare con la gente, dopo, eventualmente, perché poi spetta la politica fare la sua parte, farla entrare in gioco, quando però sarà necessario. Adesso a me interessa esclusivamente parlare con i cittadini. I cittadini devono essere la prima parte. Eventualmente, anzi, io inviterei ad aprire dei confronti. Il confronto su un tema equivale al sale della democrazia. E guai se non ci fosse. Molte persone sprovvedutamente danno delle risposte che magari potrebbero dare in maniera diversa se fossero anche più informati. E mi riferisco proprio alla stampa, alla carta stampata, alle emittenti, che purtroppo si chiudono in un sistema che invece devono rapportare sempre di più verso i cittadini. La mia battaglia è una battaglia non ideologica, ma è una battaglia di progresso verso i cittadini. Verso i cittadini. E i cittadini che poi devono parlare, loro saranno chiamati a suonare le trompe della carica. Allora, i progetti vanno tutti quanti dimensionati laddove esiste la logica della politica dei cittadini. E non viceversa. Quando la politica impone e i cittadini in silenzio devono subire. È un sistema, questo, che io ho voluto tracciare alla cittadinanza di Polla proprio per far sì che tutto parta da loro per arrivare poi alla loro autodeterminazione. Cioè saranno loro a decidere il futuro.